Voi dovete far capire con una comunicazione che voi avete valore e che avete portato questo valore e tu, responsabile, accerta il fatto che io ho dato questo valore. Chi è che per caso sta pensando ma nel mio gruppo di lavoro sono tutti così? Tutti i miei colleghi sono demotivati? Come faccio io ad essere motivato in un contesto così? Chi lo sta pensando? Diversi. Il punto è che se sono demotivati tu gli stai lontano come la peste. Cambi lavoro, trovi il modo di... Il problema è che loro ti influenzeranno in modo non particolarmente positivo. Volenti o no siamo influenzati dall'ambiente che ci circonda. Io non ne potevo più di andare in mensa con gente delle Lamborghini che si lamentava costantemente. Ho detto basta, madonna, 55 anni sei ancora qua. Ma... Però era gente che ormai veramente vedeva la pensione lì e quindi mica fa un rilancio professionale. Posso capirlo. Ma una cosa... Quindi loro non cambieranno mai. Sono io che ho detto io non posso stare di fianco a gente così. Separa l'amicizia da lavoro. Sono molto amico di alcuni di queste persone. A livello personale, a livello professionale non le stimo. Se non ci riesci cambia perché questo è un ambiente tossico per l'autocrescita. Cerca delle soluzioni alternative. Fatti spostare in un altro dipartimento, non lo so. Fai qualcosa. Se l'ambiente tende a demotivarti cambialo immediatamente perché non potrai mai esprimere il tuo massimo potenziale. E per ambiente ci metto tutto. Torno a mia moglie e a quanto... Guardate che mia moglie non ha detto Beo quando io ho detto tesoro faccio due giorni di formazione sabato e domenica. Non ha detto Beo. Cioè lei mi incentiva. Cos'è? Non hai capito? Ho detto che l'ambiente ti influenza, incluso gli amici e o la compagna e o il compagno. Cioè mia moglie quando le ho detto che facevo due giorni così fa, vabbè, andremo a stare dai nonni. Quasi mi sono sentito trascurato. Ho detto ma un po' di lamentele, no? Però è stata... le devo fare un regalo, no? Perché è stata... è super... cioè mi supporta, ok? E ha detto se per te è importante lo fai. No, ma vale al contrario, assolutamente. Cioè l'ho supportata nel suo cambio professionale. Ad esempio è passata da quattro ore che facciamo part time a sei ore a mezz'ora da Modena. Quindi è fuori il doppio del tempo. Però torno a casa, sono contenta. Avete mai sentito dire happy wife, happy life? Eh, ma se mia moglie è contenta sul lavoro, torno a casa ed è contenta. Quindi è uguale, no? Cerca un contesto che valorizzi e i tratti caratteriali che vuoi far emergere. Di chi vuole emergere, no? Cioè il tema del valore, del miglioramento positivo. Questo è la cultura aziendale su cui io, anche grazie a questo evento, sto lavorando. Voglio fare emergere questi valori. Se nelle vostre realtà non ci sono valori, non dico noi siamo ossessionati da sta roba, ovviamente, ma non c'è un qualcosa di simile, un germoglio di positività, di sviluppo, cambiate. State sprecando il vostro potenziale. Perché alcune persone raggiungono i propri obiettivi finanziari e altre non ci riescono? Ovviamente ognuno di noi parte da una situazione finanziaria differente e ha obiettivi finanziari differenti. Ma molto spesso le persone non riescono a realizzarsi in ambito finanziario perché non conoscono le giuste priorità e non seguono un percorso chiaro, logico e ben delineato, tarato sulla propria situazione finanziaria. Questo è proprio quello che ti daremo alla giornata Creo il mio piano finanziario il 26 ottobre a Bologna che in via del tutto eccezionale abbiamo deciso di non tenere qui nella nostra sede di Modena ma farlo in una sala molto grande, molto capiente a Bologna. Per questa ragione siamo riusciti a creare un'offerta imperdibile per permetterti di iniziare questo percorso nella creazione del tuo piano finanziario finalizzato al raggiungimento dei tuoi obiettivi. L'offerta per partecipare a questo evento che vedrai non è solo un evento è molto di più è un percorso che faremo insieme scade domenica 28 luglio. Trovi maggiori informazioni cliccando il link che trovi in descrizione di questo video. Riflessione? Com'è il tuo tal ambiente di lavoro? Ti motiva? Ti demotiva? Devi averne il controllo, non accettarlo supinamente. prendetevi un minuto di tempo per pensarlo, per pensarci e capire ad esempio se il gruppo con cui passate più tempo che influenze ha su di voi, sono positive o negative? Vi stimola a dare il meglio o il peggio? Fa polemica o non fa polemica? Comunicare il valore. Come riassumereste il percorso fatto finora? Yes, perfetto. Comunicazione verso di noi e verso gli altri se non c'è quella non agiremo in modo ottimale faremo cose in modo sgangherato, non massimizzeremo il nostro valore e quindi dopo faremo fatica a tirare fuori un aumento. Le tue competenze e i tuoi sforzi sono inutili se nessuno interessa, scusatemi, se nessuno ne ha conoscenza o se non interessano a nessuno. Quindi abbiamo un problema se nessuno vede il nostro valore, che è un po' quello che dicevamo prima, perché vuol dire che tu non hai valore. Se nessuno vede lo sforzo che stai facendo vuol dire che a conti fatti per l'azienda non ha valore a quello che stai facendo. È il tuo cliente che deve rendersi conto del valore che riceve. Vedremo come, ma siete voi che dovete farglielo capire perché lui lo darà per scontato. Mi seguite? Questo è un po' sottile. Voi dovete far capire con una comunicazione che voi avete valore e che avete portato questo valore e tu responsabile accerta il fatto che io ho dato questo valore. Se lui non se ne rende conto, non c'è quel valore. Prima chiediglielo, prima parlane, dopo vedremo come. Alla terza volta che glielo dici e lui non l'ha capito, cambia lavoro. Tanto l'uscita è sempre quella, no? Però prima cerca di farglielo capire, perché se tu non glielo dici, se tu non alzi, come dire, non cerchi di, non tanto all'angolo perché è aggressivo, far sì che lui riconosca il valore, non c'è. E può farlo consapevolmente o inconsapevolmente. Questo non lo sappiamo. Tua responsabilità coinvolgono nel processo e ricordargli periodicamente il valore che stai fornendo, soprattutto se è un extra. E non vuol dire che io dovevo in India dire «Ehi, sono in India, sono in India?» No, però ti puoi una volta ogni tanto dire «Ehi, ho fatto sto progetto, l'ho portato a casa, che ne dici?» È tua responsabilità, perché lui potrebbe non accorgersene, magari ha altre 20 persone da gestire. Che ne sa? Si dimentica? Dobbiamo comunicare noi il nostro valore. Se per caso a nessuno importasse del tuo valore, non c'è speranza, no? Cambia e fine.